Grazie di essere qua, vedo che il teatro è tutto pieno e ciò mi rende felice. Siamo di fronte a un'immagine di Peter Greenberg, Greenaway, come sapete, tratta dal film I misteri del giardino di Compton House del 1982. Ho scelto questo fotogramma perché è molto indicativo del nostro duplice atteggiamento nei confronti della natura. Da un lato la vogliamo conoscere, la vogliamo possedere, quasi fosse un nostro patrimonio, ma che ci risulta a tratti sconosciuto e sfuggente. Dall'altro però in realtà vogliamo farne un po' quello che vogliamo noi, cioè non la lasciamo essere libera, tendiamo a manipolarla. In questo caso specifico il film raccontava di un pittore che doveva fare dei disegni e poi dietro all'osservazione della natura di questi giardini veniva fuori anche un delitto. In effetti quali sono questi due modi in cui noi approcciamo la natura? Dai tempi di Aristotele cerchiamo di catalogarla. Aristotele che si portava dietro Alessandro Magno per insegnargli a vedere le più piccole cose del regno vegetale. La botanica è sempre stato un grande ambito di ricerca proprio perché da un lato è ripetitiva come l'astronomia, dall'altro però presenta strane sorprese. E quindi la prossima immagine è quella di questo notissimo, spero, insieme di bacheche che si trova al museo di Palazzo Poggi, il museo dell'Università di Bologna, dove sono raccolte le raccolte di reperti botanici, soprattutto botanici, di Ulisse Aldrovandi, uno dei grandi iniziatori di questa ricerca tassonomica. Però certamente non possiamo dire che la tassonomia, il mettere tutto in ordine, il catalogare, sia qualcosa che riguarda il mondo vegetale, anzi abbiamo addirittura immagini come queste ben più inquietanti. Questo è il Museo di Antropologia Criminale Cesare Lombroso di Torino, dove sono stoccati i teschi dei criminali di area piemontese. insomma, come dire, dalla Wunderkammer che stoccava le meraviglie fino a questo genere di raccolte, di presunti oggetti con qualcosa di simile, dico presunti perché è tutto da vedere che abbiano qualcosa di simile, noi siamo degli animali tassonomici e abbiamo applicato alle piante questo primo approccio di ordinamento. Però è anche vero che abbiamo avuto, soprattutto all'inizio del nostro dopoguerra, una sorta di enorme dubbio ideologico, ontologico direi, su tutto, su qualsiasi forma di ordine. L'uomo si è interrogato nei più diversi campi sulla giustezza delle proprie maniere di catalogare. e molti artisti sono stati attenti a questo, per esempio questo è un museo oceanografico a Monaco, che è stato riallestito, cioè completamente messo in disordine, sembrava in ordine ma sono stati spostati tutti gli oggetti per cui diventa di difficilissima leggibilità, questo accadeva nel 2013, e l'artista è un artista geniale americano che si chiama Mark Dillon. Dico geniale perché ha incominciato a fare questo genere di operazioni, di dubbio messa in questione dei nostri sistemi tassonomici su cui ci siamo interrogati molto poco, ha incominciato a farlo già negli anni 90, insomma è stato uno dei più precoci. E oggi si continua, si continua a lavorare su come mettere in ordine e come disordinare in maniera sensata. Qui per esempio abbiamo un'opera molto recente, nel 2022, in risposta alla Biennale di Lione, che cos'era? Si entrava in questo grande museo di storia naturale che è stato abbandonato, un posto che spero che restaurino perché veramente Lione ha un gioiello che ha lasciato completamente abbandonato perché le tipologie di bacheca, i sistemi di esposizione di questi oggetti naturali non rispondono ai criteri più recenti che sarebbero di solito molto giocosi, molto interattivi, molto immersivi. Ecco, adesso potremmo anche chiederci se è giusto che ogni museo di storia naturale, che ogni raccolta di botanica o anche di altra parte della natura, fossero pure sassi, debba essere animato da uno spirito giocoso, debba essere... È una moda che è nata con il Museo della Vilette, ormai tanti tanti anni fa, perché diventasse appetibile ai bambini e ai ragazzini, farli lavorare, farli manipolare le diverse sostanze della vita, anche compreso, giocare un po' al piccolo chimico. Però poi si è anche visto che questo toglie serietà all'approccio con la natura e appunto qui l'artista ha inserito dei video, le parti luminose che vedete, finti, ma ha anche lasciato vivere le erbacce che stavano invadendo il luogo, perché ovviamente in un museo di storia naturale dove non viene fatta manutenzione, è spesso invaso dall'erbaccio, perché qualcosa di vivo nella natura resta sempre, anche quando crediamo che sia completamente perita. E quindi c'era questo bellissimo incontro tra il futuro, la tecnologia, magari anche delle immagini del lontano, della natura lontana, e l'infiorescenza, usiamo questa parola, resilienza, delle piantacce, che sono poi le più simpatiche perché riescono a tenere vivo anche il terreno. E allora andiamo a vedere però come è incominciata questa storia, perché sappiamo che vedremo altri esperimenti molto recenti, però dobbiamo anche ricordarci che il rapporto con la natura per l'arte del dopoguerra è stato eroico, è stato abbastanza pecoce, anzi in termini direi di riflessione ecologica è stato precocissimo. Ieri sera Carlin Petrini ci ha ricordato che nel 1970 usciva il rapporto sullo stato del pianeta commissionato dal club di Roma all'MIT di Boston. Bene, quel libro lì è stato commissionato da non solo scienziati, ma anche grandi dirigenti d'azienda, amministratori delegati, persone che volevano capire dove andava la produzione, insomma, come produrre e se continuare a produrre in quel modo lì. La sensibilità di queste persone così strettamente implicate con il mondo produttivo è stata avvertita contemporaneamente, se non prima, da un numero di artisti che ha incominciato a lavorare proprio sulla natura, come mai si era fatto. Certo noi abbiamo alle spalle una storia di giardini, di modificazione del paesaggio, di modificazione delle prospettive, ma nessuno mai aveva pensato proprio di portare il sublime, il rapporto manifattura-terra dentro enormi superfici in maniera tale da suscitare delle grandissime emozioni. Qui la fotografia è quello che è, siamo nel deserto del New Mexico, Siamo nel deserto del New Mexico, l'opera è stata iniziata alla fine degli anni 60 e finita nel 77, si chiama Lightning Field e sono un'enormità di pali a sezione quadrata distribuiti nel territorio in maniera tale che ad ogni ora del giorno uno dei loro lati prende la luce in una maniera un po' diversa e quindi diventa come un paesaggio completamente libero e selvaggio, come è quello di un deserto, ma con il contrapunto di queste barre luminose e verticali, quindi con questa mano umana come fosse un quadro naturalista sul quale un artista astrattista ha voluto imporre il suo ordine. Ma è chiaro che questa fotografia è stata fatta ed è la preferita dall'artista perché ciò su cui si voleva portare l'attenzione era la relazione anche imprevista tra terra, natura, vegetali, azione umana. A volte tutto è come è, nel senso che è assolutamente prevedibile, lo sappiamo bene, l'abbiamo visto cosa succede a dimenticarsi dove arrivano i letti dei fiumi, a volte tutto è prevedibile, sembra che tutto vada nel modo migliore, poi improvvisamente arriva il fenomeno eccezionale e il fenomeno eccezionale è quello per il quale tutto si rianima in un modo nuovo e appunto in questo caso abbiamo un fulmine che connette la terra e il cielo, in altri casi abbiamo orrende alluvioni. Qui sempre siamo negli anni, nel fine degli anni 60, Giuseppe Penone è un nostro artista, un artista che sta avendo un'enorme nuova primavera, è del 1947, quindi insomma, ha oggi la sua prima maturità e che cosa ha fatto? Ha fatto un calco della propria mano in bronzo e l'ha applicato a un vero tronco. Nel tempo la pianta ha reagito e le piante insomma reagiscono finché possono, sono come sapete immagino tutti molto capaci di cicatrizzarsi, di adattarsi, se cadono fanno spuntare i rami in verticale invece che in orizzontale, riescono a riabilitarsi in qualche modo e questo lo trovo, anche se Penone ha fatto opere di molto maggiore spettacolarità, lo trovo un bellissimo segno perché è una carezza che lui fa alla pianta ma è una carezza che si trasforma anche in un atto di violenza. è quello che noi facciamo quando potiamo gli alberi e lo facciamo perché ci piace tenere bene un giardino, ma è anche quello che facciamo in generale con animo meno poetico quando tagliamo interi boschi, quando riteniamo opportuno cambiare il corso di un insieme di alberi, non di un albero solo. Torniamo però in America, volevo solo farvi capire che non è stata solo l'America a lavorare sulla natura, ci siamo stati anche noi e in Italia le abbiamo fatto molto bene. Torniamo in America per vedere due grandissime opere, questa è direi il simbolo del rapporto, della cosiddetta land art, l'artista è Robert Smithson, l'ha iniziata nel 69, finita nel 70. È una spirale fatta con il materiale della collina che vedete dietro, con delle ruspe, progettata in maniera molto geometrica, ha un'altare larghezza, diciamo, 3-4 metri, per cui ci sono tanti filmini in cui ci corrono sopra. Siamo a Salt Lake, al Salt Lake, vicino a Salt Lake City, appunto in America, e questa spirale nel tempo è stata vista, non vista, sommersa, si è riempita di microorganismi, si è riempita di funghi, il lago è salito, è sceso, quindi insomma ha subito molte modificazioni che erano nel resto, ordine delle cose, perché il progetto prevedeva proprio che questo turbine avesse il destino di tutti i turbini, cioè i turbini, che siano quelli del lavandino o quelli che vediamo in cielo, finiscono, finiscono, si trasformano in qualche cosa d'altro, i gorghi sono a movimento e come tale sono destinati per definizione a passare e questo gorgo un giorno passerà, sarà mangiato appunto dal sale e dalle diverse aggressioni di altri esseri viventi ed è fatto per questo, per integrarsi completamente nella natura. secondo la filosofia per cui l'uomo fa le cose nella natura ma deve anche essere disposto a far sì che la natura le possa distruggere, questo è un punto nodale, cioè fino a che punto un artista può lavorare nella natura, la filosofia di Robert Smithson è che lo può fare fino al punto in cui è sicuro che la natura un giorno potrà distruggere ciò che l'artista ha fatto, cioè c'è un tempo di vita che non è l'eternità sognata dai greco-romani o forse dai romantici. L'opera d'arte non deve essere eterna, deve seguire i macro-cicli ovviamente della natura. Andiamo a un altro grandissimo artista, Michael Heizer, con il suo Double Negative che io spero che riusciate a cogliere nel suo volume, perché è un volume immenso, è nel deserto del Nevada, anche qui stesse date, 69-77 circa, e cosa vuol dire Double Negative? Vuol dire che con delle ruspe, con delle macchine, l'artista ha progettato un solco geometrico, geometrizzante, dentro questa terra molto argillosa, e poi la stessa quantità di terra è stata riportata in avanti a fare una sorta di sentiero che veramente sarebbe leggibile quella cosa più chiara in alto. Quando, io purtroppo non ci sono mai stata, ma nelle fotografie zenitali si vedono come due graffi fatti alla terra e questo ci dice che di solito noi uomini interveniamo in maniera molto poco importante per il pianeta. Noi possiamo fare delle enormi cavità, ma per il pianeta sono solo graffi. Il problema è quando questi graffi si moltiplicano e il problema è anche quando queste strutture non sono in un deserto, ma in un'area molto antropizzata, dove eventualmente la sola creazione di tutto ciò può dar luogo a emissioni, può dar luogo a fenomeni di inquinamento, eccetera. Una cosa che volevano sottolineare gli artisti in quel tempo era proprio la fragilità dell'uomo rispetto alla natura e per converso la fragilità della natura rispetto all'uomo. Insomma, questo rapporto complicato che non è di dominio, che sicuramente non è di dominio dell'uomo verso la natura. Un'altra cosa che volevano sottolineare è la bellezza, perché questa è una parola che si usa di rado quando si parla di arte recente, però io la uso lo stesso. Questo è un lavoro di Christot che molti di voi conosceranno, The Floating Piers sul lago di Iseo, 1916, è stata l'opera più visitata al mondo nel 2016 ed è stato questo sogno di camminare sulle acque, questo sogno di unire ciò che è separato, questo sogno di anche portare un disegno, nel senso proprio un segno colorato laddove non avrebbe potuto esserci, laddove insomma senza l'arte, senza l'intervento umano, senza l'arto la mano non avrebbe potuto arrivare e appunto questo fu l'ultimo intervento italiano di Christot che ne aveva fatti tanti prima, pensate che aveva impacchettato, cioè riempito di strutture di copertura anche una intera scogliera in Australia oltre che monumenti di vario tipo come il Reichstag di Berlino quindi la sua carriera cioè in questo nucleo diciamo di artisti di questa generazione ci sta perché anche lui ha sentito le stesse inquietudini negli stessi anni vorrei anche ricordare che dopo il rapporto sullo stato del pianeta dell'MIT c'è stato il rapporto Meadow che uscì nel 1972 se non erro che era un rapporto che diceva delle cose che disse nel 2022 l'anno scorso prima di morire o ribadì quantomeno Bruno Latour e cioè il produttivismo va rivisto il produttivismo ovvero l'idea che l'uomo debba produrre molto per nutrire molto e debba produrre anzi il più possibile anche per creare ricchezze da distribuire possibilmente in modo eco il più eco possibile ecco questa idea dell'uomo come animale produttore va rivista perché porta inevitabilmente a una crisi di carattere ecologico e la prima preoccupazione di un politico dei politici del mondo diciamo che governa il mondo dovrebbe essere proprio la conservazione del ecosistema questo lo dicevano nel appunto questo rapporto Mido 1972 però nessuno diede particolare importanza a tutto ciò continua la sensibilità degli artisti adesso io non vi farò una storia come dire cronologica però certamente si è accentuata negli ultimi anni si è accentuata anche grazie ad alcune teorie o diciamo ad alcuni teorici io ho qua un piccolo libro che ha avuto molto successo di Emanuele Coccia che dice il mondo è innanzitutto quel che le piante hanno saputo farne questo siamo nel 20 se non erro quindi si arriva al 2020 con la consapevolezza che le piante sono sono alla base della vita e però come dice sempre Stefano Mancuso so che questi nomi li avrete sentiti in dieci altre conferenze qui non vi spiego da troppo chi sono comunque questo neuro botanico Stefano Mancuso ci dice anche noi soffriamo di uno scotoma una incapacità di vedere le piante tendenzialmente noi non le vediamo anche se sono alla base della vita anche se sono oltretutto dotate di una sensibilità perché questo è stato provato in certi casi superiore a quella degli animali ebbene noi non proprio abbiamo difficoltà a vedere che la maggior parte del mondo che guardiamo è fatto di piante e Stefano Mancuso è stato uno di quelli insomma grandi che hanno recentemente riletto tutto il modo di interpretare la botanica nelle università e anche fuori anche nell'arte allora ho accennato a Bruno Latour è importante parlare di teorici perché davvero senza queste letture molti artisti non si sarebbero lasciati portare in quella direzione o qualcuno di voi potrebbe dirmi no la teoria e l'arte nascono insieme potrei essere d'accordo così come il rapporto sullo stesso del pianeta è stato richiesto da dirigenti d'azienda e grandi maniati negli stessi anni in cui gli artisti stavano lavorando sulla natura possiamo dire che anche i filosofi lavorano contestualmente contemporaneamente creano concetti contemporaneamente alla creazione di opere d'arte sugli stessi problemi allora però accennava Bruno Latour mi sembra importantissimo ribadire che Bruno Latour appunto ha fatto un manifesto appena prima di morire ha fatto un manifesto sulla nostra necessità di sovvertire l'ordine delle priorità e abbandonare appunto qualsiasi forma di supremazia della produzione rispetto a la supremazia della sostenibilità che è una parola un po' antipatica forse lui non l'ha neanche detta perché lui non parla di sostenibilità ma parla semplicemente di ecosistema di ecologia cioè tutto ciò che è il nostro oikos che è la nostra casa che è il nostro mondo va protetto prima di produrre del resto qualsiasi qualsiasi diciamo madre lo sa che prima protegge la casa e i figli e poi proteggerà eventualmente gli eccessi della produzione le eccedenze della produzione sono stati molto importanti anche alcuni libri come quello di Don Haraway non tanto il manifesto cyborg quanto sopravvivere su un pianeta infetto Staying with the trouble che è del 16 e che ha insegnato ha insegnato ha proposto un nuovo modo di scrivere saggi soprattutto ha proposto un nuovo modo di intersecare tra loro le discipline quindi per esempio parlare di famiglie parlare di vegetazione parlare di come si sta dentro la natura e possibilmente fuori dalle metropoli e come si vive con il problema perché noi oggi il problema lo abbiamo mentre nel 70 forse ci sarebbe sviluppato oggi noi il problema lo abbiamo il pianeta è malato lei parla addirittura di pianeta infetto una volta che il pianeta è infetto cosa possiamo fare possiamo per esempio generare meno stare attenti a non diventare 15 miliardi creare delle famiglie affettuose ma non necessariamente di sangue seguire delle pratiche collettive anche infatti da arte infatti molti artisti di cui non parleremo troppo hanno incominciato a lavorare più spesso in pratiche collettive allora torniamo all'arte se no poi ci annoiamo 1916 lo stesso anno guarda caso del sopravvivere su un pianeta infetto di Donna Haraway questa è la Tate Modern di Londra l'artista francese Philippe Renaud ci presenta un'opera che si intitola Anywhere Hyundai Series London appunto che cosa ha fatto ha trasformato la Tate Modern in un posto dove la gente va torna ci sono delle formule per cui non devono prendere il biglietto in questa Turbine Hall questa formula l'aveva già inventata veramente nel 2003 Olafur Eliasson che è un altro che lavora moltissimo con la natura ma non ne parlerò perché forse ripeterei insomma molti hanno sentito parlare di questo sole che saliva questo sole davvero che abbronzava un sole finto ma vero che abbronzava le persone che stavano lì ore e ore eccetera questa formula dell'andare alla Tate Modern e starci ore e ore pensando parlando innamorandosi prendendo il sole uscendo tutti contenti o a volte no e questa formula è stata ripetuta da molti altri una delle ripetizioni più efficienti più diciamo efficaci è stata questa di Philippa Renaud che ha diciamo creato dei pannelli laterali che andavano su e giù creando delle diciamo composizioni astratte che ricordavano un po' il modo in cui lavorava la mente dei pittori di De Stille cioè dove lo metto questo quadrato De Stille intendo Van Desburg Mondrian come compongo questo spazio fatto di quadrangoli in parte in parte c'era questo problema formale poi comparivano però giocosamente dei pesci gonfiati all'interno dello spazio e sullo sfondo compariva la faccia di una seppia in un film naturalmente questo strano animale di cui insomma sappiamo che ha un caratteraccio e per questo ci interessa anche qui la gente stava guardava per lungo tempo i movimenti di questi quadrangoli ma non c'era un Mondrian a muovere questi quadrangoli c'era una colonia di batteri c'era una specie di centralina che con i propri movimenti determinava non con intelligenza con i propri movimenti determinava il modo in cui si sarebbero mossi appunto questi quadrangoli quindi una specie di opera collaborativa uomo-animale ma non possiamo neanche dire uomo-animale diciamo uomo-organismo monocellulare quindi uomo-organismo uomo-natura nel senso più vasto del termine qui vediamo una versione come dire giocosa e non apocalittica di tutto ciò andiamo verso l'apocalisse Pierre Wig 2017 siamo a Münster una splendida cittadina medievale tedesca in una pista di patinaggio che stavano smontando e in questa pista di patinaggio stavano naturalmente togliendo fanghi misti a cemento insomma non esattamente terra da coltivare e Pierre Wig ha fatto aggiungere dell'acqua e ha chiesto che venisse completamente chiuso l'ambiente tranne che per delle finestre che era come se respirassero dei lucernari in alto che facevano un movimento ritmico come se questo fosse diventato questo luogo fosse diventato il corpo un grande corpo appunto che respirava e cosa c'era in questo corpo che noi attraversavamo a piedi c'erano le erbacce le famose erbacce c'erano i muschi c'erano c'era uno strano aggeggio così che era un nido d'api di terra che fanno un tipo di api che fanno nidi molto simili a quelli delle termite ma emettono anche un certo rumore e poi c'era una misteriosa scatola dove erano conservate delle cellule cancerogene tratte da un'operazione di cancro al seno di una donna erano sigillate ma l'idea che ci fosse nel luogo dove noi camminavamo la presenza di qualcosa di cancerogeno e di sicuramente mortale era molto inquietante era come vedere tutte le possibilità di un appunto pianeta infetto che forse ha la possibilità che ogni palude ogni palude può finire interrata può finire mare può diventare mare ma si può anche salvare in realtà può diventare per esempio un luogo per la vifauna per la biodiversità eccetera insomma c'era questo senso di fine e di inizio anzi di incertezza tra la fine e l'inizio un'altra cosa che è successa è che molti artisti si sono interessati al mare o per meglio dire all'oceano qui vediamo John Jonas che è una donna che ha più di 80 anni ma ha cominciato naturalmente da giovane e ha iniziato a fare delle performance sulla sua corporalità ma cosa molto interessante una giovane femminista degli anni 60 che lavora sulla sua corporalità in una New York in cui questo era il tema da affrontare insieme con stessi anni di Yoko Ono stessi anni di Rebecca Horn stessi anni di Judy Chicago ecco Caroline Schneeman lei è passata a usare il proprio corpo consapevolmente anziano per mettere in evidenza per sottolineare i problemi dell'oceano qui la vediamo che abbraccia l'oceano un'onda dell'oceano di fronte a una proiezione queste proiezioni però le ha fatte lei è andata nell'oceano si è immersa nell'oceano ha riportato una serie di immagini dall'oceano stesso se non erro in Thailandia ma posso sbagliare con la complicità della famiglia Thyssen-Bornemizza perché sono operazioni molto costose di ripresa chiunque faccia documentari in terra lontana lo sa e appunto il tema il mio corpo la mia femminilità diventa quasi obsoleto di fronte io non voglio dire che il femminismo è diventato obsoleto però voglio fare diciamo un discorso che stanno facendo anche Donna Araway Judith Butler che stava facendo prima di morire Belux cioè le più grandi femmini Rosi Braedotti le più grandi femministe del momento il tema non è più il corpo della donna il tema è il corpo collettivo il tema è passato cioè l'emergenza vera non è più proteggere il corpo della donna è proteggere la possibilità di avere delle relazioni in un contesto che ci possa contenere e che possa non animare aggressività che poi finiscono quelle sì di nuovo addosso alle donne addosso ai deboli addosso agli animali eccetera quindi insomma John Jonas che passa da un femminismo autocentrato a un femminismo che significa curarsi del pianeta tutto questo recentissimamente ha dato luogo ad ancora altre riflessioni per esempio la Serpentine Gallery di Londra ha deciso di ospitare una serie di opere basate sulla natura e la trasformazione della natura con acqua con erbe con tessuti vegetali questa è una costruzione spaziale di Tabitha Rezzeri del gruppo Amakaba e Youssef Agohola molti sono africani se qualcuno di voi andrà alla Biennale Architettura vedrà che è tanta la riflessione che l'Africa ci sta portando in questi settori perché come dicono loro in Africa sono successi prima che altrove dei disastri ecologici di cui noi dobbiamo essere consapevoli perché probabilmente arriveranno anche qui e quest'opera fa parte della serie di mostre fatte alla Serpentine intitolate Back to Earth torniamo alla Terra curate da Lucia Pietro Iusti e Felipe Ramos e vengono fatte queste mostre sia all'interno della Serpentine Gallery sia a Kensington Garden cioè dove la galleria è posta e molto spesso hanno carattere proprio di giardini di costruzioni come dire sognanti direi di fantascienza è molto è molto frequente che almeno a me vedendo queste opere vengano in mente alcuni test di fantascienza quello che sicuramente viene in mente più spesso è Solaris di Valdis Lem perché Harry la protagonista femminile del film scusate è diventato anche un film innanzitutto era un libro la protagonista femminile della storia è una donna e non lo è è una donna ma è anche il prodotto di un'intelligenza globale che si è come dire unificata in un oceano magmatico dal quale possono uscire forme intelligenti di ogni tipo che servono a mantenere difeso questo stesso oceano cioè è come se la vita pur di difendere se stessa fosse disposta a prendere qualsiasi forma però dalla parte dei diciamo non uomini perché questa vita di cui vi sto parlando non fa parte degli umani fa parte dei controumani naturalmente siamo nella fantascienza quindi e molto spesso viene in mente che ci possa essere un domani una contronatura una natura diversa una natura che non abbiamo saputo capire e che si è sollevata contro di noi e che ci e che si difenderà dalle nostre dalle nostre aggressioni se non riusciamo a trovare degli accordi prima naturalmente poi ci sono tanti esempi su come intervenire abbiamo provato a intervenire per esempio questo è il grande Joseph Beuys che ha tra le tante artista tedesco che tra le sue tante azioni ha fatto quest'opera che io ritengo geniale per una questione temporale cioè a Cassel nel 1982 ha fatto mettere a dimora 7000 querce queste 7000 querce naturalmente saranno sopravvissute qualcuna sì qualcuna no saranno tutte a Cassel qualcuna si sarà dispersa nella regione Assia certamente però questa è un'opera infinita fino a quando durerà questo ecosistema un figlio di un figlio di un figlio di una di queste querce durerà e questa era un'operazione fatta nell'ottica di una riparazione contro la guerra riparazione della Germania contro se stessa riparazione di se stessa rispetto al fatto di avere fatto di Cassel uno dei centri bellici più forti durante la seconda guerra mondiale per cui Cassel fu rasa al suolo è ricresciuta molto male insomma Cassel non è un gioiello di città e uno dei modi per adornarle renderle omaggio è stato proprio questo rimboschimento tra l'altro recentemente si è saputo che non mi fate citare le fonti che non le so che bisognerebbe piantare un tot numero di alberi e qualcuno in sala lo saprà di sicuro cioè sostanzialmente c'è un minimo di alberi che ciascuno dovrebbe salvare per poter raggiungere la salvezza ecco la salvezza rispetto alle emissioni di CO2 quindi questa è un'operazione che è stata molto lunga pensata poetica bella e anche direi veggente andiamo torniamo più vicino a noi questa è una grande vetrata che troviamo in Thailandia dal 2002 Riekrit Tiravanija artista thailandese però nato a Buenos Aires a New York dappertutto e altri hanno creato un luogo di produzione sia di architetture bizzarre sia di pensiero perché vanno lì a passare del tempo una specie di retreat per la concentrazione ma soprattutto il tema è ritrovare i vecchi risi ritrovare i vecchi sistemi di coltivazione ritrovare i vecchi riti e cercare di togliere la supremazione o quantomeno fare delle azioni simboliche che si oppongano a quello di cui ci parlava sempre ieri sera Carlin Petrini cioè questo famoso 80% del riso ma in realtà di tutti i semi del mondo che appartengono a un brand cioè il fatto che tutti che l'80% dei semi delle sementi nel mondo abbiano una marca siano targati significa che naturalmente c'è una mancanza di libertà da parte del contadino piccolo che magari cent'anni fa poteva vivere con tre ettari di terreno oggi sarà ben pensabile cioè quando noi ci figuriamo di poter tornare all'antico ma non si può perché chi è che oggi può vivere con tre ettari di terreno sono cambiate delle condizioni tali per cui anche il solo l'acquisto della semente non consente di tornare a quella però certamente si può provare a coltivare a chilometro zero a volte le opere d'arte sono un po' ipocrite io questa la trovo un po' ipocrita anche valendo molto bene ai due artisti che sono un armeno e una palestinese René Gabri e Irina Nastas vi spiego perché perché loro nei tre mesi della mostra coltivarono consumarono e vendettero le loro erbe i loro ortaggi il punto è che lo fecero all'interno della mostra quindi all'interno di un sistema protetto è vero che se si fanno azioni esemplificative va bene anche un circuito protetto però è vero che questa assoluta supermerazione del chilometro zero è difficilmente esportabile diciamo è difficilmente generalizzabile al di fuori del ambito ripeto protetto e anche molto pubblicizzato di una mostra d'arte cioè riusciremmo a vivere tutti con produzione chilometro zero in realtà si è capito di no quindi ridurre le distanze sì fare azioni esemplificative sì cercare di essere tutti quanti nello stesso mood è un po' difficile e in questo vorrei citare un'altra artista che si chiama una slovena in realtà un'artista e un'architetta perché arte e architetura e pianificazione urbanistica si stanno molto incrociando tra loro questa è una ragazza che sotto la direzione di Mariettiza Potoc un'artista appunto architetta slovena sta lavorando l'azienda Finottello una certa azienda che lavora bio a Santerasmo nella laguna veneziana utilizzando solo acqua piovana diciamo anche questo è qualcosa che si sogna l'utilizzo dell'acqua piovana si può utilizzare solo l'acqua piovana no altrimenti non ci sarebbero gli impianti di irrigazione da sempre che l'uomo cerca di sperare nella sola pioggia però certo noi abbiamo smesso di confiadare nella pioggia nel senso che abbiamo confidato troppo nella raccolta permanente di acque in enormi invasi mettendo in sottoordine le raccolte in piccole cisterne le raccolte di emergenza le raccolte insomma che si possono fare anche a casa propria ma tutto questo che vi sto facendo vedere è poi come dire così interessante è arte la solita domanda che viene fatta che io insomma non è così difficile rispondere ma ci vuole molto tempo beh in un certo senso se per arte intendiamo qualcosa che ci scuote sì perché questo per esempio è un campo di grano che l'artista americana Agnes Dennis ha piantato addosso a New York proprio tac addosso a New York la prima volta nel 1982 e poi l'ha rifatto a Porta Nuova quando Porta Nuova che è il nuovo quartiere di Milano è cresciuta improvvisamente e nessuno riusciva a capire cosa stesse succedendo a Milano io sono una pendolare ci torno ogni settimana e ogni settimana era diversa ma ancora adesso ogni volta vedo qualcosa di più alto eccetera e Agnes Dennis ci ha messo piantando e poi anche raccogliendo facendo tutto il ciclo produttivo il grano intorno ai terreni che erano interessati dai cantieri ci ha messo questa inquietudine stiamo veramente facendo la cosa giusta o non stiamo andando contro la legge che dice che un consumo suolo eccessivo danneggia il nostro oikos la nostra casa quantomeno quando siamo in città sappiamo che fuori c'è la campagna perché per esempio Milano era nata con un piano regolatore per cui doveva essere fatta stella con dei polmoni verdi agricoli che entravano fin dentro quasi al centro e di questa stella sono rimasti due polmoni agricoli perché tutto il resto è stato consumato nel senso che è stato dato all'edilizia allora è arte o non è arte beh insomma se uno ci pensa bene un colpo al cuore lo dà pensare che stiamo facendo questo anche se la Milano nuova non è brutta devo dire e qui siamo di nuovo in un campo di sperimentazione di cosa può fare la natura da sola come quando vi ho parlato dei batteri e cioè Alexandra Daisy Ginsberg cosa ha fatto ha creato sempre nell'ambito delle mostre della Serpentine a Londra una una strada che favoriva attraverso l'utilizzo di feromoni e altri agenti diciamo chimici ma biochimici nel senso di non artificiali l'impollinazione noi potremmo anche pensare questo di utilizzare non dei fertilizzanti ma delle sostanze che favoriscono l'impollinazione noi sappiamo che gli antichi le conoscevano e le usavano una nostra artista italiana tanti anni fa faceva una bellissima opera al castello di Rivoli si chiamava Marisaldi utilizzando proprio dei feromoni cioè delle sostanze che aiutano invitano l'accoppiamento e quindi l'impollinazione o la l'incontro tra due insetti anche tra due uomini veramente questi sono queste sono immagini dall'ultimo film di penultimo veramente di Steve McQueen che ricorda come erano le terre diciamo cerca di fare delle barchette con la carta e con la plastica ricordando come erano come? scusi scusatemi ok quindi appunto siamo in un ricordo d'infanzia della piccola cosa che è una delle diciamo attitudini che abbiamo tutti ricordare la nostra piccola cosa nell'infanzia fare le barchette per lui fare le barchette in un posto dove non è più possibile è quella piccola cosa oppure si passa al grandissimo guardiamoci questo grandissimo oggetto che è un cratere in un deserto dell'Arizona che è stato acquistato dagli indiani nativi e che l'artista James Tarr l'ha trasformato nel Roden Crater e cioè in un immenso all'interno è precisissimo luogo dove stare lui ci arriva con il suo aereo personale bisogna starci almeno tre giorni e osservare la natura osservare gli astri che ci sono in quel momento osservare il rumore della natura se c'è il silenzio della natura le stelle che naturalmente sono state tolte dal insomma che l'inquinamento luminoso ci toglie molto spesso insomma ce ne priva e questo è veramente uno di quei luoghi che attestano l'eroicità di alcuni artisti questo è un luogo che vedranno pochissime persone quando l'artista morirà vorrei sapere chi se ne prenderà cura ci sarà una fondazione ma a un certo punto andrà incontro sicuramente alla perdita di eppure è un grande luogo di poesia è un grande luogo di incontro con il insomma tra la terra e il cielo tra la terra l'uomo e il cielo passiamo queste che mi sembrano ecco no vorrei fare un piccolo omaggio a a come si potrebbe abitare un domani come si potrebbe abitare perché non possiamo pensare che si possa tornare ad abitare almeno in luoghi molto caldi in piccole unità abitative queste sono state create dall'artista Andrea Zittel in California lei vive in una sorta di fattoria e poi ospita chi vuole in queste specie di capsule e un po' l'idea della capsula sta anche in quest'opera di Daniel Buren Daniel Buren è un grande artista concettuale questo è un omaggio a Pistoia che sto facendo perché è un'opera che sta qui a pochi passi meravigliosa di un grande artista è presso la collezione di Giuliano Gori è stata fatta site specific specificamente per quel luogo ed è un modo per parlare di come l'arte l'architettura il manufatto possa utilizzare tutti i suoi strumenti quindi il colore la forma la geometria la storia del colore della forma della geometria ma senza dimenticare la relazione con la natura e il suo riflettere sempre la natura quindi questo diciamo farsi tutt'uno con la natura spero che abbiate capito che questa è una ambientazione con le superfici esterne che specchiano specchianti e le superfici interne invece colorate che creano una sorta di configurazione sempre diversa a seconda del punto di vista da cui si guarda questa scultura che è anche come tutte le sculture della fattoria di celle è anche percorribile insomma ci si possono perdere ore se uno si appassiona perché è un parco aperto nonostante sia molto molto ben curato purtroppo il tempo è tiranno quindi passiamo Doris al sedo e finiamo con un'installazione che era alla Biennale di due anni fa dell'artista precius o coiomon di che cosa era fatta questa installazione era l'ultima era la fine della Biennale quindi in un certo senso il testamento della curatrice della Biennale peraltro un'italiana Cecilia Alemani era un insieme di terra per la quale erano state scelte delle kuzu che sono delle piante infestanti di cui tutti cercano di liberarsi ma le kuzu in realtà crescono in maniera rapidissima servono molto per disinfestare i luoghi infestati cioè uno dei miracoli che le piante sanno fare è riconvertire quindi come pensiamo alla zona un altro film meraviglioso di Tarkovsky cosa c'era nella zona erbaccia in definitiva naturalmente un film del 79 credo quindi lontanissimo spero che qualcuno l'abbia visto ma era la zona cioè un posto dove si andava a rendere reali i propri desideri poi in realtà qualcuno si fermava prima perché rendere reali i propri desideri significa prima sapere quali sono che non è facile e secondo quando poi sono reali bisogna anche saperli come dire affrontare gestire eccetera ecco anche qui è quella e la zona era fatta di erbacce e anche qui abbiamo questo culto della questa rivalutazione delle erbacce del rifiuto di ciò che non vogliamo vedere di ciò che di quel sistema che forse Timothy Morton definirebbe un ipoeroggetto cioè qualcosa di enorme che avvolge tutto il globo ma che non riusciamo a concepire come una sola cosa una cosa unitaria e appunto da queste erbacce poi si ergevano dei busti femminili come a dire che dalle erbacce possono venire su anche delle intelligenze dai rifiuti da un fiume di rifiuti di sassi e di qualcosa che si è sempre ritenuto infestante può venire fuori qualcosa di sorprendentemente vicino alla speranza una speranza che ci può rallegrare ci può mettere insomma io vedo insegnando le giovani generazioni in uno stato di grande crisi perché da un lato hanno voglia di vivere viaggiare fare l'amore fare dei figli e fare tutto quello che si fa nella vita insomma prospettare davanti a sé una insomma un arcobaleno di sensazioni quello che ci hanno promesso da piccoli e però molti sono depressi perché capiscono che non sanno se avranno davanti tutto il tempo o un tempo da vivere in maniera positiva o piuttosto quasi come prigionieri e quindi chiudiamo con questo inno alla vita la possibilità di vivere felici diciamo non perché non siamo consapevoli ma perché possiamo desiderarlo ancora e possiamo forse mettere ancora in atto alcune azioni e questa è una seppia un calamarone dell'artista Annika I intitolata In Love With Nature anche questa presentata alla Tate Modern erano tutti c'erano questi calamaroni che svolazzavano per questo enorme invaso che è la Turbine Hall con colori con con l'idea di qualcosa di insomma come se noi fossimo immersi in un'acqua salvifica anche se il prezzo è essere amici di strani esseri stringere nuove alleanze trovare un rapporto con le entità naturali che noi umani così noi sapiens così aggressivi non abbiamo mai saputo mettere in piedi o forse sì forse i grandi pescatori non lo so i grandi i grandi coltivatori i cowboy che vivevano mesi e mesi solo con loro a cavallo gli armenti e insomma ci sono tanti artisti che stanno lavorando in questa direzione Daniel Mangranè Pamela Anderson ci sono delle fondazioni che stanno facendo un lavoro meraviglioso su tutto questo come la fondazione Prada Venezia come appunto la stessa la stessa Biennale la Serpentine Gallery se proprio siccome molto spesso queste opere si risolvono in immagini godibili spero che abbiate insomma che questo mio sproloquio vi abbia creato il desiderio per andare a vedere cosa succede nel mondo dell'arte quando si connette così tanto profondamente e con amore alla natura grazie 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 a tutti grazie a tutti grazie a tutti